Tutto è pronto? Tiki, a un minuto e mezzo torneremo a Bologna, nel frattempo Sincotti e Glasser sono andati in posizione all'interno Jenny Inks e King Nelson con Glasser che va davanti su Jenny Inks che ha all'esterno Sincotti, quarta King Nelson, Rosina Bella riprende in mano Glasser ammucchia un po' gli avversari tra i quali Jenny Inks è in seconda posizione avendo all'interno King Nelson, Sincotti, all'argo Mr. Romaldo queste le posizioni con Glasser, Jenny Inks, all'interno King Nelson, poi Sincotti, di fuori Mr. Romaldo, in corda Rosina Bella e in coda Top Experience Schermo in mutato, Glasser, Jenny Inks, in corda King Nelson, di fuori Mr. Romaldo, in mezzo ai quattro Sincotti, in coda e in corda Rosina Bella con di fuori Top Experience Glasser con Jenny Inks che galoppa a qualche metro dallo steccato nell'andare su Glasser quando siamo nel bosco, stiamo uscendo dal bosco per andare alle intersezioni Glasser, King Nelson, Jenny Inks e Mr. Romaldo in diagonale, poi Rosina Bella e Sincotti in coda Top Experience Glasser che allunga da King Nelson che all'esterno Jenny Inks e tra questi Rosina Bella e Sincotti con di fuori Mr. Romaldo in coda Top Experience, volata di 600 metri Glasser l'affronta in vantaggio su King Nelson, Jenny Inks, Sincotti Rosina Bella che ha guadagnato moltissimo all'interno Rosina Bella che attacca Glasser in mezzo alla pista Sincotti poi King Nelson, se lo giocano in quattro in questo momento con Rosina Bella e Sincotti che vanno all'attacco di Glasser Rosina che passa, prepara la difesa, torre su da Sincotti che ci prova poi Top Experience finendo forte con lotta furibonda tra all'interno Rosina Bella all'esterno Sincotti, Sincotti che attacca Rosina Bella, poi Top Experience non li so dividere io dal mio punto di osservazione, che è identico al vostro Rosina Bella e Sincotti, a fil di palo Sincotti, la sensazione tutta per tre cavalli vicini, c'è anche Top Experience c'è anche Top all'esterno, molto stretta Rosina e Sincotti vicinissimi davanti a Top Grazie Grazie Grazie